Con questo tutorial vediamo degli esempi sulle potenze di frazioni algebriche. Partiamo da questo esercizio. Allora, qui posso andare a mettere in evidenza un AB, allora posso andare a scrivere AB che moltiplica A meno B, tutto quanto fratto A più B, tutto alla seconda per, qui vado a metterne in evidenza un B, quindi scrivo per B che moltiplica A meno B fratto A più B, tutto quanto alla meno 3. Ora, qui nel primo fattore devo andare a distribuire questa potenza 2, quindi devo andare a scrivere A alla seconda, B alla seconda, A meno B alla seconda e A più B alla seconda. Nel secondo fattore devo eseguire il reciproco perché qui c'è scritto A meno 3 e poi distribuisco la potenza 3 ed ottengo A alla seconda, B alla seconda, A meno B alla seconda fratto A più B alla seconda per, questa quantità quindi la scrivo al contrario perché faccio il reciproco e allora vado a scrivere A più B alla 3 fratto B alla terza che moltiplica A meno B alla terza. Ora vediamo quello che posso semplificare. Allora qui ho A più B alla seconda, qui A più B alla terza, allora semplifico questa quantità con il 3. Poi ho A meno B alla terza e A meno B alla seconda e allora vado a semplificare questo con la potenza 3. Poi ho B alla seconda e B alla terza, allora vado a semplificare tutto B alla seconda con la potenza 3. Vediamo quello che ottengo. E allora, a numeratore mi rimane A alla seconda per A più B e allora scrivo A alla seconda per A più B fratto, vediamo il denominatore. Al denominatore mi rimane questa B e A meno B, allora scrivo fratto B che moltiplica A meno B. Vediamo quest'altro esempio. Allora, qui in questo fattore vado a distribuire subito la potenza 2, mentre qui scompongo questo x quadro meno 9 ed ottengo x meno 3 alla seconda fratto x più 3 alla seconda per x meno 3 per x più 3, tutto quanto fratto x più 3, tutto alla meno 3. Ora posso semplificare questo fattore con questo fattore e allora semplifico questo con questo. Adesso questa quantità la ricopio e qui eseguo il reciproco perché c'è scritto elevato alla meno 3 e allora vado a scrivere x meno 3 alla seconda fratto x più 3 alla seconda per 1 fratto x meno 3 alla terza. Ora, qui ho x meno 3 alla seconda, qui ho x meno 3 alla terza e allora posso semplificare questa quantità con la potenza 3 ed ottengo 1 fratto x più 3 alla seconda per x meno 3. Vediamo questi altri esempi. Allora, qui posso andare a mettere in evidenza un 5, qui un 15 e qui un 3 e allora vado a riscrivere 5 che moltiplica x più 2 fratto x meno 2, tutto quanto alla terza per, apro la tonda, 15 che moltiplica x più 2 fratto 3 che moltiplica x meno 2, tutto quanto alla quarta. Ora, già che ci sono, posso semplificare questo 15 con il 3 e allora 3 diviso 3 fa 1 e 15 diviso 3 fa 5. Adesso vado a distribuire la potenza 3 e la potenza 4 su ogni termine e quindi vado a scrivere 5 alla terza, x più 2 alla terza ed ottengo 5 alla terza per x più 2 alla terza fratto x meno 2 alla terza per 5 alla alla quarta per x più 2 alla quarta per x più 2 alla quarta fratto x meno 2 alla quarta e quindi ho distribuito questa potenza 4 sui vari termini. Adesso vediamo quello che posso fare. Allora, ho un 5 alla terza e un 5 alla quarta e allora ottengo 5 alla settima per x più 2 alla terza per x più 2 alla alla settima fratto, poi ho un x meno 2 alla terza e un x meno 2 alla quarta e quindi ottengo x meno 2 alla settima. Vediamo quest'altro esempio. Allora, in questo fattore vado a distribuire subito la potenza 3, mentre qui scompongo per differenza di quadrati e questo attraverso un trinomio caratteristico ed ottengo x meno 3y alla terza per x meno 3y per x più 3y fratto e qui devo scomporre utilizzando il caratteristico, cioè devo trovare due monomiche moltiplicati danno 3y quadro e sommati 4y e allora vado a scrivere x più 3y per x più y tutto quanto alla seconda. Adesso vado a distribuire questa potenza 2 ed ottengo x meno 3y alla terza per x meno 3y alla seconda per x più 3y alla seconda fratto x più 3y alla seconda per x più y alla seconda. Vediamo ora cosa posso semplificare. Allora, questa quantità è uguale a questa quantità e la posso semplificare, quindi questo va via con questo. Osservo che questa semplificazione l'avrei potuta fare qui all'interno, semplificando questa quantità con questa quantità. poi mi rimane x meno 3y alla terza per x meno 3y alla seconda ed ottengo x meno 3y alla quinta fratto e poi ho un x più y alla terza per un x più y alla seconda e quindi ottengo x più y alla quinta. Vediamo questi altri esempi. Qui posso scomporre per differenza di quadrati, qui invece vado a distribuire la potenza 2 e qui faccio il minimo comune multiplo ed ottengo 4y alla quarta che moltiplica 2y alla seconda meno 1 per 2y alla seconda più 1 per 3y meno 1 alla seconda fratto y alla seconda per... e qui faccio il minimo comune multiplo ed ottengo y alla seconda e poi 4y alla seconda meno 1. Vediamo ora cosa posso semplificare. Qui ho y alla seconda, qui y alla seconda e qui y alla quarta, allora posso semplificare questo, questo con questo. Poi siccome che 4y alla seconda meno 1 è 2y alla seconda meno 1 per 2y alla seconda più 1, posso semplificarlo con questo denominatore e allora vado a togliere questo, questo con questo e quello che mi rimane è 4 per questo fattore e quindi vado a scrivere 4 che moltiplica 3y meno 1 alla seconda. Vediamo quest'altro esempio. Allora, questo fattore è elevato alla meno 2 e quindi eseguo il reciproco e vado a scrivere x più 1 fratto x alla seconda meno 1 tutto quanto alla 2 per x quadro meno 1 fratto x quadro più 1. Poi qui questo fattore è elevato alla meno 1 quindi eseguo il reciproco e vado a scrivere x alla quarta meno 1 fratto x meno 1 alla seconda. Ora vado a distribuire qui la potenza 2 e poi scompongo per differenza di quadrati questa quantità. Questa quantità e questa quantità non la vado a scomporre perché già mi rendo conto che poi le posso semplificare. E allora vado a scrivere x più 1 alla seconda fratto x alla seconda meno 1 alla seconda per x alla seconda meno 1 fratto x alla seconda più 1 per, qui vado a scomporre per differenza di quadrati e vado a scrivere x alla seconda meno 1 per x alla seconda più 1 fratto x meno 1 alla seconda. Vediamo ora cosa posso semplificare. Allora, qui ho x quadro meno 1, qui x quadro meno 1 quindi ho x quadro meno 1 alla seconda, qui ho x quadro meno 1 alla seconda, allora posso semplificare questo, questo con questo qui. Poi qui ho x alla seconda più 1, qui x alla seconda più 1 e allora posso semplificare questo fattore con questo fattore. Vediamo quello che mi resta. A numeratore ho x più 1 al quadrato, a denominatore x meno 1 al quadrato e allora vado a scrivere x più 1 al quadrato fratto x meno 1 al quadrato. Vediamo questi altri esempi. Allora questa quantità la vado a scomporre per differenza di quadrati e qui vado a mettere in evidenza un 2. Allora vado a scrivere 2x meno a meno 1 per 2x meno a più 1 fratto 2x meno a più 1 alla terza per, qui abbiamo detto che andiamo a mettere in evidenza un 2 e quindi scrivo 2 che moltiplica 2x meno a più 1 fratto 3. Ora siccome che qui c'è un elevamento a potenza distribuisco questo 2 e quindi vado a scrivere 2 alla seconda, questa quantità alla seconda e 3 alla seconda. Ora vediamo cosa posso semplificare. Allora qui ho un 2x meno a più 1 alla seconda, qui ho un 2x meno a più 1 e quindi complessivamente ho un 2x meno a più 1 alla terza. A denominatore ho 2x meno a più 1 alla terza, allora posso semplificare questo fattore, tutto questo fattore con questo fattore. Vediamo quello che mi resta. Allora a numeratore ho un 2 alla seconda e quindi vado a scrivere 4 che moltiplica questa quantità e quindi scrivo 4 per 2x meno a meno 1 fratto 3 alla seconda e quindi scrivo fratto 9. Vediamo quest'altro esempio. Allora qui vado a mettere in evidenza un 3 e scrivo 3 che moltiplica a più 1 tutto quanto fratto a e poi distribuisco subito la potenza 3 e quindi vado a scrivere 3 alla terza a più 1 alla terza per 7a alla terza fratto, qui vado a mettere in evidenza un meno 3a alla terza e quindi scrivo meno 3a alla terza che moltiplica a più 1 tutto quanto alla seconda, per, qui faccio il minimo comune multiplo, quindi denominatore a più 1 e poi a più 1 meno 1. Vediamo ora cosa posso semplificare. Qui ho 1 e qui meno 1, quindi questo va via con questo. Poi ho un a più 1 alla terza e qui un a più 1, allora posso semplificare questo fattore con la potenza 3 e scrivo alla seconda. Poi ho un a alla terza e un a alla terza, allora semplifico questo con tutto questo. Infine ho un a e un a alla terza, allora posso semplificare questa a con la potenza 3 e scrivere a alla seconda. Vediamo quello che mi rimane. Allora ho un 3 alla terza per a più 1 alla seconda fratto a alla seconda. Poi qui vado a distribuire la potenza 2 e scrivo 7 alla seconda fratto. Allora ho un meno 3 alla seconda che mi fa più 3 alla seconda per a più 1 alla seconda. Ora posso semplificare questa quantità con questa quantità. Allora questo va via con questo. Poi ho un 3 alla seconda e un 3 alla terza. Allora posso semplificare questo 3 alla seconda con la potenza 3 ed ottengo. 3 per 7 alla seconda fa 147 e a denominatore mi rimane a alla seconda. Vediamo questi ultimi esempi. Allora qui vado a fare il minimo comune multiplo e vado a scrivere xy che moltiplica y più x. Già che ci sono posso distribuire la potenza 2 e quindi scrivere questa quantità alla seconda e poi questo alla seconda e questo alla seconda. Quindi scrivo questo alla seconda, x alla seconda, y alla seconda per, qui vado a fare il minimo comune multiplo ed ottengo xy e poi y meno x e distribuisco la potenza 2 e quindi scrivo y meno x alla seconda, x alla seconda, y alla seconda, y alla seconda e qui vado a fare il minimo comune multiplo ed ottengo allora x meno y per x più y e poi questa quantità diviso x meno y fa x più y per x più y e quindi scrivo x più y alla seconda meno questa quantità diviso x più y mi rimane x meno y per x meno y e scrivo x meno y alla seconda. Ora già che ci sono posso semplificare questo fattore con la potenza 2 e quindi questa quantità la semplifico con questa e ricopio e scrivo x più y fratto x quadro y quadro per, qui al posto di y meno x posso scrivere x meno y al quadrato fratto x quadro y quadro per, qui sviluppo ed ottengo x alla seconda più x alla seconda più 2xy, poi meno e sviluppo questa quantità e allora meno x quadro meno y quadro più 2xy fratto x meno y. Vediamo ora cosa posso semplificare. Allora qui ho x quadro e qui meno x quadro quindi questo va via con questo. Poi ho y quadro e meno y quadro quindi questo va via con questo. Poi ho un x meno y e qui un x meno y al quadrato allora posso semplificare questo con la potenza 2. Vediamo quello che mi rimane. Allora a numeratore ho un x più y per x meno y e quindi posso andare a scrivere x quadro meno y quadro che moltiplica quello che rimane qui cioè 2xy più 2xy quindi per 4xy fratto. Vediamo quello che mi rimane al denominatore. Allora ho un x alla quarta y alla quarta. Ora posso semplificare questa x con la potenza 3 quindi questo va via con questo e quindi diventa x alla terza e poi questa y con la potenza 4 e allora questo va via con questo e allora quello che mi rimane è 4x quadro meno y quadro fratto x alla terza y alla terza. Vediamo quest'ultimo esempio. Allora qui, qui e qui faccio subito il minimo comune multiplo ed ottengo a più b meno a più 2b tutto quanto fratto a meno 2b e già che ci sono posso distribuire la potenza 2 e quindi scrivere questa quantità alla seconda e questa quantità alla seconda per qui faccio il minimo comune multiplo e quindi ottengo a alla seconda meno 4b alla seconda fratto a e distribuisco la potenza 2 e quindi questa quantità alla seconda fratto a alla seconda anche qui minimo comune multiplo ed ottengo a più 2b e poi a meno 2b più a più 2b e distribuisco la potenza 2 e quindi questa quantità alla seconda e questa quantità alla seconda. Ora vediamo cosa posso semplificare. Qui ho un a e qui un meno a allora questo va via con questo poi qui ho un meno 2b e qui un più 2b allora questa quantità si semplifica con questa quantità. Faccio poi delle osservazioni. a meno 2b al quadrato per a più 2b al quadrato non è nient'altro che a alla seconda meno 4 alla seconda b tutto quanto alla seconda e allora posso semplificare questa quantità questa quantità con questa quantità e vado a semplificare questo questo e questo. Vediamo quello che mi rimane. Allora qui ho una b e qui ho un 2b quindi ho 3b alla seconda allora vado a scrivere 9b alla seconda poi qui non mi rimane nulla e qui ho a più a quindi a più a fa 2a alla seconda vado a scrivere 4a alla seconda fratto. Vediamo quello che ho a denominatore mi rimane a alla seconda e quindi scrivo a alla seconda. Ora posso andare a semplificare a alla seconda con a alla seconda e quello che mi rimane è 36b alla seconda e con questo esempio termino questo tutorial sulle potenze di frazioni algebriche.